eccoci qui sempre a Sinergie 2022 siamo nella seconda parte della giornata dopo la plenaria abbiamo i vari speech dei relatori di spicco dell'evento sono qui con Andrea Cobianchi direttore commerciale di WeUnit ciao Andrea ciao Alessandra grazie per l'invito allora WeUnit mediazione del credito giusto? compra vendita immobiliare e mediazione del credito vanno di pari passo qual è il ruolo che gioca WeUnit in questa in questa dinamica? beh intanto vi rubo e ti rubo il nome della giornata Sinergie perché certamente la risposta alla tua domanda è Sinergia Sinergia del credito nei confronti dell'immobiliare e Sinergia dell'immobiliare nei confronti del credito WeUnit in questo contesto è nata diversi anni fa all'interno di un gruppo immobiliare quindi nel nostro DNA tutto quello che il nostro mercato captive ci ha insegnato nel corso degli anni a metterci a disposizione del mondo immobiliare per chiudere per agevolare le varie compravendite di ogni tipo di immobile che si possa trattare è chiaro che nel corso degli anni tante modalità all'interno del mondo del credito sono cambiate ciò che si faceva prima del decreto 141 prima del 2010 era un mondo completamente diverso un mondo magari anche con poche barriere all'ingresso e che consentiva all'agente immobiliare di svolgere questa attività andando anche all'interno del mondo del credito oggi questo è tecnicamente possibile sulla carta con le ultime norme è decisamente complicato da attuare nei confronti del cliente finale perché le modalità di lavoro e tutte le legislazioni che sono intervenute nel frattempo hanno complicato in maniera importante tutta l'attività quindi per risponderti WeUnit nasce all'interno di un gruppo immobiliare il nostro DNA è quello di integrarci con l'immobiliare noi diciamo sempre all'interno del nostro gruppo FC Group ai nostri colleghi agenti immobiliari adotta un consulente del credito perché con questa sinergia riusciamo a ottenere i risultati per entrambi vendere l'immobile e vendere del denaro in realtà poi voi la mediazione accreditizia è ampia non fate solo mutui cessioni del quinto telemutuo avete tanto digitale in corpo cosa? quali sono i prossimi step di WeUnit? dove vedi WeUnit nell'arco temporale di 5 anni? in tutti questi anni abbiamo capito e imparato che da un lato il multiprodotto hai citato il mondo del quinto poi vi sono i prestiti personali abbiamo un asset creato per il corporate abbiamo un broker assicurativo al nostro interno quindi multiprodotto è certamente la strada da seguire si dice da oggi in avanti ma a casa nostra da ieri in avanti dall'altra parte come vedo WeUnit nei prossimi anni certamente la multicanalità per multicanalità intendo il mondo fisico quindi ancora l'abitudine di andare all'interno delle agenzie immobiliari a incontrare il cliente ma siamo mai al 4.0, 5.0, 6.0 insomma quindi anche la multicanalità e l'acquisizione di Telemudo fatto ormai un paio di anni fa ci ha fatto sbarcare sul mondo digital che ci consente anche di aggredire quella parte di clientela che fino a qualche anno fa magari era poco rilevante ma col tempo che passa diventa sempre più rilevante io porto sempre l'esempio delle generazioni quantomeno non le mie che vivono di digital questi saranno i clienti del futuro e questo cliente difficilmente entra all'interno di uno sportello bancario e aggiungo probabilmente anche all'interno di un'agenzia immobiliare di conseguenza siamo noi che dobbiamo posizionarci su quel mercato e aggredire quel mercato perché quel cliente non si posizionerà mai sui nostri vecchi mercati questo non vuol dire lasciare la tradizione ma significa multicanale per andare insomma a mettere a disposizione i nostri servizi a una pluralità di soggetti differenti proviamo a fare una disamina per tutti quegli agenti immobiliari che magari non hanno una collaborazione fattiva con un consulente del credito con un mediatore creditizio dove va a inserirsi l'attività nel processo di acquisto di un immobile e della vente di un immobile dove si inserisce l'attività del mediatore creditizio temporalmente diciamo domanda interessantissima Alessandro perché lo sentivo anche in una tavola rotonda precedente noi spesso arriviamo un po' più lunghi rispetto ai mercati americani e anglosassoni oggi un cliente nel mercato anglosassone viene sempre prequalificato prima da un collega del credito e quindi all'interno di quale fase del processo all'inizio faccio un esempio molto molto pratico se noi riusciamo a prequalificare tutti i possibili clienti dell'agente immobiliare l'agente immobiliare è in grado di indirizzare quel cliente verso l'immobile corretto per lui corretto per lui significa ti faccio vedere qual è l'immobile perché so qual è la tua disponibilità economica il tuo equity e so quanto puoi ottenere di mutuo sarebbe ed è ancora ad oggi assolutamente controproducente da un punto di vista commerciale di vendita portare il cliente a vedere l'appartamento all'ultimo piano con l'attico, col terrazzo per poi dirgli eh no sai che c'è caro cliente tu non puoi averlo perché l'accesso al credito per te è inferiore quindi ti faccio vedere l'immobile al secondo piano da un punto di vista commerciale di vendita il cliente l'hai perso perché gli hai proposto un sogno ma senza dargli poi lo strumento per realizzarlo quindi all'inizio del processo prequalifica la prequalifica come diciamo processo virtuoso nella vendita nella vendita degli immobili come fare a stimolare di più la collaborazione la cooperazione tra agenti immobiliari e mediatore del credito? chi riesce ad avere l'esatta risposta alla tua domanda probabilmente diventa leader del mercato adesso è una battuta è chiaro che lo scopo di tutte le società di mediazione del credito non vi aprimi esattamente quella di trovare l'alchimia corretta che noi diciamo caro collega adotta un consulente del credito essere presenti sul mondo immobiliare noi lo siamo col mercato captive quindi con tutto il mondo FC Group sviluppato già nel corso di questi anni ed è chiaro che però hai un termine perché una volta che copri tutte le tue agenzie del tuo gruppo hai finito quindi bisogna andare poi sull'esterno come? questo è un esempio siamo all'interno insomma di una manifestazione prettamente immobiliare e l'essere presenti nel mondo immobiliare in manifestazioni di questo tipo e proporsi al mercato con servizi perché il denaro lo vende la banca noi vendiamo dei servizi al mondo immobiliare per chiudere sempre più trattative chiuderle velocemente profilare il cliente quindi come noi diciamo all'agente immobiliare adotto un consulente del credito anche il consulente del credito deve essere presente sul mercato immobiliare perché gli sta la qualità nel mondo dei mutui non esistono solo i mutui casa acquisto ci sono svariate altre finalità ma diciamo che la qualità migliore la finalità migliore da un punto di vista di PD del credito come chiamano in banca è sempre la famiglia che acquista l'immobile quindi la nostra presenza all'interno dell'immobiliare non è importante è fondamentale se non ci sei vieni spazzato dal mercato prima durante l'intervento di Deborah Rosciani sul palco si parlava anche in questo periodo molto particolare di volatilità tassi che si alzano si abbassano si muovono si parlava anche di cultura da da elargire al cliente finale credi che ci sia abbastanza comunicazione in questo senso sia rivolto all'utente finale che rivolto anche agli agenti che poi agli agenti immobiliari che poi riversano sull'utente finale e come si può sviluppare secondo te questa consapevolezza finanziaria da un punto di vista di crescita professionale di pulizia del mercato è un percorso che io credo iniziato da una decina di anni prima era una giungla questo settore era una giungla anche pericolosa con un po' di animali feroci oggi è stato molto più addomesticato però io credo che il percorso debba essere ancora ancora da farsi perché quotidianamente ti trovi all'interno della nostra categoria come in tante altre categorie di tutto il paese insomma delle professionalità diciamo ancora da formare noi al nostro interno lavoriamo molto con la nostra Academy sulla professionalità sulla correttezza sul dire anche al cliente caro cliente no non si può fare perché non sempre tutto riesce a fare e questo modo di operare porta sempre dei risultati positivi lato un po' più istituzionale che quindi non compete a noi ma da chi governa tutto il sistema ma mia personalissima opinione se vi fossero delle barriere all'ingresso ancora più rigide di quelle che vi sono oggi secondo me tutto il sistema ne potrebbe beneficiare concludo il nostro cliente va a acquistare un immobile chiede decine di migliaia di euro non è il cliente che va a comprare un chilo di pane quindi non puoi sbagliare su un'attività di questo tipo e io credo che aumentare un po' la barriera all'ingresso e aumentare la professionalità può tornare utile a tutti quanti sicuramente sicuramente leggevo un dato che è stato pubblicato ancora quest'estate dall'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate a fronte di circa 758 mila compravendite in Italia solo circa la metà è stato finanziato da un mutuo come leggi questo dato? l'italiano non ha una propensione al debito? do una risposta un po' in controtendenza noi tutte le mattine ci alziamo apriamo cellulari computer giornali per chi li legge ancora e leggiamo notizie le più catastrofiche possibili negli ultimi anni in Inghilterra dicono crisis as usual tutte le mattine ti svegli prima il covid e poi la guerra ormai sei abituato in questo contesto perché dico vado in controtendenza? perché il sistema bancario italiano il sistema peso Italia ha una liquidità estremamente importante ci sono un sacco di soldi poi lasciamo per dove stanno chi li ha dove sono concentrati eccetera ma la liquidità sul mercato è assolutamente tanta è chiaro che in un momento di mercato con tassi estremamente bassi beh vi è tutta la convenienza anche economica nel farlo in periodi come questo che viviamo in maniera drammatica ma ci dimentichiamo i mutui al 10 all'11 al 12 al 13 per cento insomma viene un pochino più accentuata è chiaro che è chiaro che in Italia viaggiamo con una quota di mercato intermediato non dal sistema mutui ma dal sistema bancario rispetto alle compravendite quasi al 50% se non ricordo male prendiamo i pesi anglosassoni è molto più elevato arriviamo sempre dopo però questo ci dà fiducia per i prossimi anni perché è un mercato che dobbiamo ancora aggredire e completare in questo momento come dicevi è sempre una crisi siamo sempre nell'incertezza purtroppo dobbiamo convivere con questa situazione diciamo di insicurezza dicevamo tassi alle stelle alta volatilità oggi un consumatore secondo te come deve approcciarsi quando vuole acquistare una casa e fare un finanziamento per l'acquisto della casa da un punto di vista di acquisto immobiliare insomma ognuno è libero di decidere cosa vuole cosa desidera dove eccetera eccetera poi tutto sommato la bellezza il prezzo del bene che viene ad acquistare si ha un valore oggettivo ma la soggettività del bene poi influisce tanto da un punto di vista del credito io penso che la prima cosa che l'utente finale il cliente debba essere consapevole di quello che sta facendo quando prima ho detto a un cliente bisogna essere anche in grado e capace di dire no significa metterlo nelle condizioni ci sono anche una serie di attività legali che si devono fare per la valutazione del cliente finale di fargli ben comprendere che cosa potrebbe succedere dal tempo zero a 10, 15, 20, 30 anni il periodo di ammortamento del finanziamento che richiede e in base a quello come nel mondo azionario caro cliente quanti rischi ti vuoi prendere? banalizzo andiamo sul variabile andiamo sul fisso potremmo parlarne per ore ma il tema è trasferire consapevolezza al cliente in modo tale da portarlo a bordo e farlo rendere confident insomma di che cosa lo aspetta tenendo sempre presente che il mutuo non è un costo ma è un risparmio forzoso e sempre parlando di cliente finale io nella mia attività di agente immobiliare vedo spesso acquirenti che fanno il classico giro delle quattro chiese ah sì adesso vado in sette banche diverse faccio fare dei preventivi oppure mi dicono ma sì sono andato in banca non c'è nessun problema il mutuo me lo danno che io a tutti quanti rispondo guarda che quando vai in banca la banca ti dice sempre sì che non ci sono problemi perché sarebbe stupida da dirti no però il problema poi è vedere tutta la documentazione fare l'istruttoria quindi non è così semplice quali sono i vantaggi diretti di un cliente di un utente finale che si rivolge a un mediatore creditizio anche di questo tema ne è stato parlato nella 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 tavola della tonda precedente con con Deborah Rosciani è chiaro che è giusto o sbagliato che sia la banca vende il suo prodotto che quel prodotto sia ideale a quel cliente parliamone è chiaro che però la banca quello quello deve vendere nel mondo della meditazione del credito si ha a disposizione una pluralità di banche che possono risolvere o comunque mettere a disposizione in maniera anche un po' tailor made il prodotto nei confronti di quel cliente che possa essere più adatto a lui faccio un esempio semplice che io faccio che io faccia che io abbia un lavoro dipendente o che io abbia un lavoro autonomo insomma già questo sposta il prodotto da offrire da offrire al cliente finale all'interno poi di una pluralità di banche c'è sempre la banca col tasso più alto più basso più giusto più sbagliato e quindi andando un po' a clasterizzare la clientela che abbiamo di fronte magari anche poco bello da dire ma questo è quello che succede all'interno dei nostri uffici abbiamo clientela alla quale diciamo caspita andiamo a scegliere il prodotto migliore che le costa meno che è il più stabile eccetera 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 perché lei è un cliente prime esiste anche una topologia di cliente che prime non è al quale diciamo noi cerchiamo di risolvere il problema ma non possiamo scegliere andiamo a prendere quel prodotto che quella banca le mette a disposizione risolviamo al cliente la sua necessità l'agente immobiliare collega vende l'immobile insomma tutti felici e contenti chiaro per fare invece tornando diciamo a livello aziendale se se uno volesse diventare un mediatore del credito qual è il percorso che deve fare per entrare in WeUnit o comunque per fare mediazione del credito parlavamo di barriera all'ingresso prima non è chiaro che l'OM l'organismo di controllo che rispondeva anche d'Italia che controlla tutto il sistema è la società di mediazione e mediazione in primi si impone degli step che sono dei corsi dei corsi da seguire un esame finale da superare fatto questo il soggetto la persona può tecnicamente svolgere questa attività è chiaro che poi la può svolgere in due maniere o con una società di mediazione del credito quindi plurimandato o può scegliere l'altra strada gente in attività finanziaria monomandato a quel punto superata questa barriera sceglierà dove preferirà andare per quanto concerne FC Group e WeUnit noi abbiamo una nostra accademia interna a prescindere dalla seniority o meno del soggetto che incontriamo e la prima cosa che facciamo è spiegargli i valori che stanno all'interno del nostro gruppo giusti sbagliati ti piacciono non ti piacciono noi siamo fatti così noi diciamo sempre che cerchiamo persone normali e accompagniamo durante tutto il percorso di vita lavorativa dei nostri collaboratori li accompagniamo in continue formazioni perché il mondo cambia ogni giorno sia da un punto di vista di hardware quindi conoscenza del prodotto dei sistemi del mercato della legislazione si dà un punto di vista un po' più software perché alla fine noi facciamo i venditori vendiamo soldi ma sempre venditori venditori siamo e quindi anche una serie di attività orientate più al rapporto col cliente bene come abbiamo visto da questo intervento non c'è solo tasso fisso tasso variabile nel settore dei mutui l'ambiente è molto molto più complicato quindi affidarsi ad intermediari professionali è sempre la scelta più adeguata grazie Andrea per il tuo contributo e proseguiamo con gli interventi grazie Alessandro dell'invito buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti